Musica Secondo appuntamento di giornata, Cib e Tradizioni, il Sud che amiamo, ne discuteremo con le istituzioni, con imprenditori e con esponenti anche del tessuto economico vibonese per andare al di là di quelli che sono i soliti stereotipi e raccontare anche gli usi e le tradizioni e il cibo in maniera diversa. Musica Musica